Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. La Sette ha deciso di abbandonare la strategia aggressiva verso l'Europa seguendo le regole ed evitando di fare errori. Enrico Bonaccini, qualche giorno dopo, Stefano, scusate, Bonaccini, il giorno dopo dice a Tagadà, Giorgia Meloni non è una fascista, è una persona certamente capace ed è molto lontana dalle mie, dovrà dimostrare di essere all'altezza di guidare un governo come quello italiano. Sono troppo pochi mesi che è partita anche quando critichiamo, io dico a tutti, usiamo misura nelle critiche. E Walter Veltroni, che non nominava neanche Berlusconi ma lo chiamava il principale esponente dello schieramento avverso, plaude a questo tipo di atteggiamento dicendo basta con la demonizzazione, la sinistra deve parlare di sé più che attaccare l'avversario. Cosa pensa di tutto questo? Non sono d'accordo con le dichiarazioni che ha fatto Stefano Bonaccini perché ieri eravamo in Parlamento a votare contro un decreto che ha solo lo scopo di rendere più difficile salvare le persone dal mare. Giusto per fare un esempio, quando altre 73 persone sono morte annegate, sono state ritrovate sulle sponde nelle coste libiche giusto il giorno precedente. Capace di fare l'autonomia differenziata per spaccare ulteriormente il paese, capace di fare condoni, capace di avere cancellato il reddito di cittadinanza, quindi colpito i poveri anziché contrastare la povertà. Capace di abolire, anzi di restringere fortemente opzione donna, capace di cancellare i fondi per l'affitto. Ecco, altro che capace. Io ho un giudizio netto e molto negativo su questi primi mesi di governo in cui mi sembra che Giorgia Meloni ancora si comporti da leader di partito anziché da... Ma allora perché vince se Meloni non è capace? Perché vince a Mani Bassi, ha vinto in Lombardia e nel Lazio a Mani Bassi ed è stata lei a vincere? È stata la sua coalizione e questo ci dice molto che finché la destra sarà divisa, ma sarà più divisa l'opposizione, sarà difficile costruire un'alternativa solida. E noi siamo qui a cercare di cambiare tutto nel PD perché è evidente dopo questi risultati che dobbiamo cambiare volti, metodo e anche visione per ricostruire e naturalmente contribuire a fare un'alternativa a queste destre, altrimenti continueranno a vincere. Prima di dare la parola a...